Categoria Pulcini In ritardo mi racconto il computer Allora, abbiamo detto Capo Cannoniere della categoria Pulcini Margarecci della CR Messina Marra del Calcio Gallico Consegno il premio Marra del Calcio Gallico Allora, miglior giocatore Spina della Reggina Calcio Grande Davide Bravo Davide Bravo Davide Ok, grazie Ciao Bravo Davide Bravo 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 Allora, per miglior quartiere Amatteo del Calcio Gallico Grazie 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 Allora, consegna il premio Vediamo chi consegna Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? grazie 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 guarda ragazzi volete guardatevi guardatevi grazie ulatevi grazie stiamo sheep near тво ragazzi tiratemi di qua attenzione al cao scusa di qua perfetto alzala 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 e qua ragazzi attenzione al cao ehi bravo occhio occhio pare che scendono i nuvoli questi video ogni tanto non capiscono questi bambini giocando per il terzo posto la GR Messia dove sono? allora aspettate andatevi a voi occhio al filo con la scuola c'è il mister si aspetta la tua giratevi di là allora la prevenzione la fa il mister il marzo non c'è il marzo Grazie. Ma pure a te devo richiamare ogni due minuti. Non li fai passare. All'interveggio che è il secondo posto, mister di una regia a calcio. Guardate, guardate. Un applauso, un applauso, un applauso. Dai, diamo il secondo posto. Guardate, guardate, guardate. Guardate, guardate, guardate. Guardate, guardate. Guardate, guardate. Guardate, guardate. Guardate, guardate, guardate. Guardate, guardate. Guardate, guardate. Aspettate un attimo, ragazze. Allora, scusate, la città è messina, è tutto per il school Barcellona. Aspettate che vi dobbiamo dare ai bambini le medaglie. La città è la medaglia anche... Chi sei? No, me l'ho trovata a Cirino, che ti spero. Cirino? Allora, voi aspettate che... Guardate, guardate. Guardate, guardate. Guardate, guardate, guardate. Guardate, guardate. Guardate, guardate. Guardate, guardate. Passa avanti, passa avanti. Passa avanti, passa più avanti. Grazie Saverio Se io ti vengo e si mettono Vai Ok a posto Staccate Eh? Staccate Che poi si dovrebbero tagliare Si si ma dovremmo mettere pure la cosa Si dovrebbero tagliare perchè alcuni pezzi li ho ripresi così Si si Posta ti muovono Posta girati Preparateli qua Girati Siamo pronti giratevi in là Posta Giratevi giratevi Posta 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 Un bel sorriso Posta a te Si Mai spalle Ecco Bello Posta 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 Fermi, 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 fermi! Riccardo consegna il trofeo come primo classificato categoria Pulcini. Grazie. 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 Allora giratevi di là, giratevi di là, giratevi di là, da che ci sono le mamme che se la mettono. Geni che faccio il mio, così voglio la foto con il mio. Allora per il primo disciplino con la squadra è stato nominato la polvere di Milasso. Allora giratevi. Allora giratevi. Allora giratevi. Allora giratevi. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti